Eccoci qua con M più A, il nostro momo naturalmente, ho detto appunto rientriamo con Carlo Eccoci tornati in studio, volevamo rientrare da qua perché lì vedo che è sopraggiunta gente nuova non c'è più lo stesso contesto di questa inquadratura scarna in cui sono raffigurato Volevamo stupirvi con effetti speciali e sono arrivati a M più A in questo caso Dire da dove deriva il nome della loro band è semplice perché sono le iniziali dei loro nomi Michele Alessandro, M più A, una band di cui ci ha parlato in tempi molto non sospetti un fedele collaboratore che è il signor Ponchielli in arte Barnaba quindi noi sappiamo bene che gli M più A non hanno cominciato con These Days Si sente? No, abbiamo fatto altri tre dischi che però in realtà non sono dischi, sono ufficiosi ci chiamavo AM ed erano più delle prove che altro e poi abbiamo fatto Things Yes nel 2011 che è il primo disco ufficiale e appunto These Days che uscirà il 30 settembre Da dove nasce M più A? Come è nata questa voglia di fare questo tipo di musica? Ma il nome nasce dalla volontà di non dare nessun significato o chissà quale idea che sta dietro al nome di una band semplicemente è un progetto basato su noi due e l'idea della musica non nasce da niente, siamo noi due, facciamo ciò che ci piace fare e basta Ma cosa vi ha portato a scegliere questo filone e da dove siete partiti più che altro per arrivare qui? No, in realtà non sappiamo neanche noi ora adesso in che filone siamo abbiamo cominciato a suonare seguendo alcune idee che ci piacevano e poi abbiamo iniziato a cambiarle man mano quindi diciamo che trasformiamo le cose man mano che ci lavoriamo sopra e anche These Days è stato un po' più una liberazione che un qualcosa di effettivo cioè ci siamo messi in saletta per un anno dalla primavera del 2011 fino alla primavera del 2012 e poi abbiamo fatto troppe bozze e abbiamo detto basta, dobbiamo fare un disco in un modo o nell'altro Certo che sembra strano, sembriamo più una squadra sì, sembriamo più due squadre di beach volley Siete, posso dire un termine, siete impresentabili, siete tutti con le braghette corte ma dove vi credete? È il caldo che è impresentabile Ma solo perché è una web tv voi fate così perché se era la Rai voglio vedere se andavi in braghette con l'occhialetto No, 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 noi siamo anti-intervista Vabbè, comunque continuate pure con questa intervista che è un po' difficile vedo perché i ragazzi, cioè... Allora preferiscono suonare, immagino perché poi è così, no? Che magari uno è un po' timido a raccontare la sua musica perché poi io capisco che è anche un po' una menata, diciamocela Quindi raccontare la musica però è il modo che serve per farsi conoscere perché tante volte non basta suonare basta, no? No, è ovvio Gioco di parole idiota E come rispondi a questa cosa, a questo spunto, ecco Che non basta suonare basta Esatto, esatto Se vuoi parlare di Pirandello basta che lo dici e andiamo col tema di italiano No, beh, è chiaro che bisogna anche saperci mettere in gioco Quindi sì, non basta suonare basta però se si suona bene si può fare meno dell'altro Dai, benissimo Allora, MPU, noi li lasciamo andare però, vabbè, timidi davanti alle telecamere ma poi sul palco mi raccomando e se spaccare Anche perché vorrei che lasciaste anche i vostri recapiti online visto che il modo di trovare il vostro disco, a parte questa sera Insomma Dico solo il sito Perfetto www.ma-official.com Lì c'è tutto in vari portali così non sto a fare una lista Perfetto Grazie MPUA Vi vedremo sul palco del radar di Sherwood Festival e l'hashtag è Sherwood13 Fra un po' sì Grazie a tutti